Ciao amici di PaviaPlay, siamo Irene e Davide e oggi qui all'aperto vogliamo darvi una dimostrazione del tailandese. Sì, come diceva la mia collega, il tailandese, una breve spiegazione che vi diamo, è quella che il tailandese è un ottimo massaggio benefico, è basato sui canali energetici, come tutta quella filosofia che arriva dall'Oriente, che va dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, passando tra la digitopressione, la palmopressione e gli sblocchi articolari e determinate manovre fatte e dette in gergo da questo massaggio, tra cui il famoso cobra che un po' in giro se cercate su internet lo trovate e le altre manovre di trazioni, allungamenti, stretching e quant'altro. Adesso a breve vedrete di che cosa stiamo parlando. E poi inoltre vi vogliamo anche ricordare che ci potrete trovare per tutta la stagione estiva all'onda splash di Zerbolo a bereguardo. Siamo i massaggiatori ufficiali dell'onda splash. Adesso vi salutiamo, buona giornata e buon benessere a tutti, ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.